ritorna un grande appuntamento di Radio Birichina il classico dedicato al Natale sessanta Christmas speciale Gian Pieretti mercoledì undici dicembre al teatro Pietro d'Avano di Avano Terme dalle ventuno i migliori artisti degli anni sessanta Gian Pieretti Mal Vilma Goic Dino Pacchi con l'accompagnamento del gruppo rivelazione del festival show le Ubi Dolls insieme dal vivo sessanta Christmas mercoledì undici dicembre teatro Pietro d'Avano Avano Terme info e prevendita zero quattro due tre sette tre sei sette zero quattro due tre sette tre sei sette o nei punti vendita viva ticket sessanta Christmas duemila e tredici un altro grande evento organizzato dalla tua radio Radio Birichina